La risposta del Papa, che fu un'emozione enorme, abbiamo parlato giustamente del fatto che molti italiani, moltissimi italiani, hanno viaggiato all'Argentina per trovare una ricchezza, trovare diversi stili di vita, e noi abbiamo ripetuto in suo momento i figli e i niputi degli italiani qua in Italia. E come ho detto una frase, che noi siamo figli della nave e padri dell'aereo, quindi è stata un po' simpatica questa risposta e anche un'emozione enorme, di nuovo, un'emozione enorme, per ricevere però tan veloce una lettera del Papa, quello è stato bellissimo. L'altra cosa è che noi, gli argentini, gli italiani, che preghiamo per lui, che per darle forza veramente a un cambiamento che sembra che ci staglia, si sente nell'aria il cambiamento della chiesa.